ha praticamente appena finito di asciugarsi dallo champagne stappato per aver vinto il campionato italiano rally anche nel 2017 con la coppia ucci ussi e peugeot qui a padova l'auto moto d'epoca porta un'auto mitica che proprio per andrea ucci è stata importante perché perché la peugeot 309 gt è stata l'auto che ha accompagnato i primi passi di appunto di paolo andrea ucci un'auto che come si vede poi anche qua nel nell'anteriore nasceva dalla 205 aggiungendo poi dopo un volume un mezzo volume posteriore nel caso della gt con questo spoiler nero in plastica qua appunto sul sul baule a 309 gt dal 205 gt prendeva non solo il frontale ma anche il motore che era il 130 cavalli benzina che appunto che tanto ha fatto godere chi guidava la 205 gt e anche chi guidava la 309 gt che veniva definita il brutto anatroccolo in peugeot però non si ok non sarà stata l'auto che faceva battere il cuore però comunque guidarla pare che fosse non mai appunto sia fatto crescere un certo andrea ucci probabilmente se la poteva cavare ed è invece la sua prima apparizione in italia un modello molto molto sfortunato la peugeot 305 v6 sport auto che avrebbe dovuto prendere il posto della 504 nel mondo rally di peugeot che venne sviluppata con un motore anteriore una trazione posteriore ed è comunque con una carrozzeria bella cattiva tutta studiata per dare il meglio di sé nel rally ma che poi dopo quando il il capo del del reparto peugeot sport diventò jean tot disse no ragazzi fermi tutti perché è il 305 v6 non ho nulla contro di lei però secondo me potremmo dare in là a un altro progetto come si chiamava quel progetto si chiamava peugeot 205 e visti i successi che ha avuto sia dal punto di vista commerciale sia dal punto di vista delle corse ma forse jean tot non c'eva visto così male e così la 305 v6 è rimasta lei l'unica al mondo che da sto show per la prima volta ha attraversato le alpi ed è venuta qui a padova per raccontare una storia un po sfortunata e però dai ce la fa forse amare un pochettino di più grazie a tutti